Abbiamo il piacere di avere qua Stefano Zanini, grande campione di ciclismo italiano. Che emozioni si provano a vedere i ragazzini correre? Grandissime emozioni, è uno spettacolo, vedere il futuro del ciclismo pedalare, divertirsi, perché mi piace vederli divertire, divertirsi, vedi qua, sono tutti contenti, è una gioia, pensando che potrebbero diventare il futuro, è bello. Si torna bambini insomma a vederli? Si rivive quello che ho passato io prima, con grande gioia e un grandissimo in bocca al lupo a tutti indistintamente, a tutti i ragazzi che si portano verso il ciclismo. È un grande sport di grande valore, che regala molte emozioni, le abbiamo vissute in questi giorni con il Tour de France. Sì, anch'io in prima persona nella mia carriera, la mia fortunata carriera, auguro a tutti i bambini di arrivare molto in alto. e un elogio a tutti gli organizzatori e tutte le squadre che ci mettono tantissima passione per organizzare tutte le gare. Davvero tanti complimenti a loro. Grazie mille. Grazie a voi. Saluto. Ciao. Ciao, 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 ciao. No, it's just a fun, it's okay.